Brindisi e il suo territorio meritano un'operazione verità, lo dichiara il segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Gianfranco Solazio, che si dice preoccupato per il futuro industriale ma soprattutto occupazionale dell'area brindisina. In troppi, prosegue, rivendicano la salvaguardia del lavoro e denunciano il rischio di desertificazione industriale ma poi di contro demonizzano un giorno sì e l'altro pure il settore industriale. Ecco che gli interessi della comunità sono alle prese con un gioco perverso e paradossale che genera solo confusione. La CISL in tema di ambiente, di legalità, di salute e sicurezza ha sempre rivendicato sviluppo e crescita di lavoro buono e ben contrattualizzato, al contempo ha rivendicato confronto, partecipazione con responsabilità in ordine alla necessità di mostrarsi attrattivi verso gli investimenti produttivi e non respingendoli. Ecco che noi, spiega Solazzo, ci sentiamo titolati a denunciare con cognizione di causa e ancora una volta qualsivoglia mancata lungimiranza ad oggi rispetto a politiche industriali che anticipino i processi di decarbonizzazione e competizione globale sul mercato della chimica con la conseguenza che si rischia di far pagare il costo più alto ai soldi noti, cioè alle lavoratrici e ai lavoratori, oltre che all'intera comunità territoriale. Il venir meno di realtà produttive apre scenari preoccupanti per l'intero sistema produttivo, per l'occupazione, per il reddito di migliaia di famiglie e di lavoratori diretti e indiretti. E' questo il tempo dunque di rivendicare uniti e senza pregiudizi strumentali, in imprese di posizioni ibride nei confronti delle imprese, dell'energia e della chimica, responsabilità e assunzione di impegni a reindustrializzare per rilanciare sviluppo e occupazione, al contempo analogo a responsabilità nei riguardi di chi persevera nell'ostacolare investimenti certi, autorizzati e in linea con il processo di decarbonizzazione come rivendicato da tutte le categorie confederali del settore energia. Dunque per il territorio di Brindisi le aziende, a partire da quelle partecipate da capitale pubblico, l'istituzione a tutti i livelli e il governo in primis, esprimano senza altra perdita di tempo una visione di medio-lungo termine non solo per fermare la crisi di impresa ma anche per rilanciare crescita, sviluppo, occupazione stabile e ben contrattualizzata. L'attuale clima tra i lavoratori rischia di intensificare tensioni e rabbia il cui epilogo non è mai preventivabile, pertanto, conclude il segretario generale vanno date risposte con responsabilità e trasparenza prima che si approdi a un impoverimento economico e sociale che Brindisi non merita. Come Cisle abbiamo sempre espresso disponibilità al dialogo sociale e alla partecipazione uniche strade percorribili se si intende mirare al bene comune.